L'accorpamento di due classi alla scuola primaria di Piragineti ha dato vita ad una protesta promossa dal Comitato dei Genitori che trova piena condivisione nel dirigente scolastico Tiziana Cerbino e nell'assessore alla cultura Donatella Novellis chiesto un incontro all'ufficio provinciale scolastico a fine di addivenire ad una soluzione ma al momento nessuna risposta è pervenuta. Hanno deciso di accorpare una seconda elementare e una terza elementare, in questo periodo di Covid non mi sembra proprio l'ideale non ci hanno avvisato per tempo, non hanno detto niente e quando siamo andati a chiedere tutto dipendeva dal provveditorato a noi non sta bene perché 18 bambini compreso un disabile grave secondo me è impossibile, è inconcepibile metterli insieme fare una pluriclasse in questo periodo è inconcepibile, noi non lo accettiamo. Avete chiesto un incontro, sollecitazioni in passato, vi è stato risposto? Abbiamo mandato delle mail, non ci ha risposto nessuno, solo la dirigente scolastica ci ha detto, ci ha accertato come incontro ma lei non ha potuto fare niente, anche lei ha fatto diverse sollecitazioni ma non ha avuto nessuna risposta adesso siamo noi e aspettiamo, dalla parte dell'amministrazione comunale ci hanno risposto all'inizio non erano tanto d'accordo, poi alla fine hanno accettato, hanno visto che la nostra protesta è giusta e hanno chiesto un incontro urgente con il greco al provveditorato ma ancora non hanno avuto risposta quindi per noi da oggi la scuola non apre, sta chiusa e tutto l'istituto a nostro favore Quindi la protesta proseguirà fino a quando? Fino a che non avremo risposte positive Personalmente sono in duplice veste, sia come Presidente del Comitato Ungore di Sipi Raggineti sia come a nome di un genitore che ha i propri figli qua al plesso di Raggineti Come Comitato siamo letteralmente solidali a questa protesta noi il Comitato è sempre sensibile a questo tipo di problematiche pensiamo che questa scelta non sia stata giusta anche in questo periodo di emergenza Covid creare delle classi, per noi definiti assembramento classi pollaio Per noi questa scelta non è proprio condivisibile In questa protesta so che è stata da parte dei genitori è stata inviata a chi di dovere, a tutti gli enti preposti al proprietorato, alla direzione quindi però anzitem e devo dire a malinguore che queste decisioni prese non sono pervenute alla rappresentanza dei genitori e per questo noi siamo qua e lo sprono all'amministrazione di essere a fianco La scuola perde alunni ragione per cui si è reso necessario l'accorpamento ma in tempi di Covid dovrebbe prevalere opportunità e buonsenso Questa mattina i genitori giustamente stanno protestando perché una seconda e una terza della scuola primaria di Pira Gineti è stata accorpata è stata accorpata dall'ATP di Cosenza non sono decisioni che dipendono dal dirigente scolastico ma gli organici sono di competenza dell'ufficio scolastico provinciale io però mi sono mossa da subito già dal mese di maggio per chiedere all'ATP di tornare sui suoi passi visto il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo e le regole per il distanziamento sociale non ho ottenuto comunque risposta ho riprovato più volte mandando delle PEC ma la situazione è rimasta di fatto così in ogni caso in accordo con l'amministrazione comunale abbiamo predisposto uno spazio adeguato per accogliere i 18 alunni che derivano dalle due classi della seconda e della terza è uno spazio, un ex laboratorio sul quale sono stati investiti diversi soldi circa 10.000 euro da parte dell'amministrazione comunale un laboratorio abbastanza grande che rispetta la normativa sia dell'edilizia scolastica che del distanziamento sociale intanto in accordo con l'assessore e col sindaco del comune di Corigliano Rossano stiamo chiedendo un incontro con il provveditore per cercare di arrivare ad una soluzione se è possibile appunto ritornare ad avere le due classi a Piraggineti Siamo in attesa di risposta io credo che l'amministrazione si sia dovuta far carico di questa esigenza dal momento in cui i genitori hanno comunque presentato delle richieste che assumono la forma di richieste di aiuto quindi in grande sinergia in grande condivisione con l'istituzione scolastica quindi nella figura del dirigente e in sinergia anche con quello che deve essere poi il modus operandi della comunità educante tutta attendiamo una risposta affinché si possa divenire comunque ad una soluzione ottimale che tuteli i bimbi la cosa importante è che comunque i bambini non devono essere messi in difficoltà e qui debbano essere privati del diritto allo studio quello è fondamentale i bambini comunque a scuola al momento sono in sicurezza quindi io credo che sia giusto farli far frequentare loro e far iniziare un anno scolastico comunque in maniera serena in attesa che delle risposte arriveranno credo che questo sia fondamentale a presto a presto